Rumore di fondo 1 Rumore di fondo 2 Allora gente, a parte il fatto che oggi ho scordato i calzini per far avanti e indietro Quindi faccio con le ciabatte E se sentirete rumori strani sulle ciabatte E qualche coglione non ha tirato completamente giù la tapparella della cucina Quindi fatelo fare a me Perfetto Qualcuno dovrà mettere dell'olio a questa porta finestra Allora Beh signori, l'ora è giunta L'ora è giunta E infine è successo, prima o poi doveva accadere Era una catastrofe inevitabile Ma alla fine l'ho fatto Quanto mi è costato? Tutto Ho visto Frozen Ho visto Frozen, il regno del ghiaccio 53esimo classico della Disney del 2013 Beh che dire Beh che dire Ci sono molte cose da dire riguardo a questo film E quasi nessuna positiva Tenetevi pronti perché questa recensione non sarà felice Vedo cose strane e riflesse Ma va bene Allora La mia condizione con questo film era che Per fortuna Non l'avevo mai visto Devo alzare Il ventilatore No è già due Le mie condizioni sono che Per fortuna Non l'avevo mai visto Però ho dovuto recuperare stasera E tutto quello che mi dicevano le altre persone È che Ok aspetta Proviamo a tenere il telefono così Così forse ci sono meno pop quando parlo Perché ho sentito che Nelle ultime tre recensioni Ce ne sono stati un sacco E mi scuso tantissimo Vediamo se a tenere il telefono così Non abbiamo problemi Insomma La gente mi ha sempre parlato di Frozen Come uno dei film peggiori della Disney Uno dei film con i più grandi buchi di trama Uno dei film con la trama più fiacca E così via Insomma Raramente ho trovato persone Che mi hanno parlato bene di Frozen E insomma Insomma Di una cosa sono soddisfatto questa sera Dell'aver visto Frozen Di una cosa sono soddisfatto Che Ho finalmente Come dire Messo Una X Ho finalmente Chiuso una faccenda Con Quella testina di agnello Sul Sull'altro gruppo Dove Voi non ci siete dentro Ma ci sono io Dentro un altro gruppo E Probabilmente Ora ve lo posso dire Con tutta Posso dirvelo proprio Senza peli sulla lingua Io Ho iniziato La maratona Disney Perché Una volta Stavo parlando Di Frozen E di come mi era E di come non volevo vederlo Perché me ne era stato parlato male La situazione è che Il nostro caro amico Che fece il cineforum Su Miyazaki Mi devo riferire a lui così Perché così sapete di chi sto parlando E dato che Per quanto tecnicamente potrei Perché non credo che Mi sia proibito a livello legale Cioè penso che Se faccio nome e cognome Potrei Non credo di Avere problemi legali Data la persona che è Però Preferisco riferirmi a lui Come La persona che fece il cineforum Su Miyazaki Che Per voi persone Di telegram Sapete di chi sto parlando Ma per voi persone su youtube Ve la faccio breve Dicendo che Questa è una persona Che di cinema Se ne intende veramente E non lo dico tanto Per dire Il sapientone Che ne sa No no È una persona che di cinema Ne sa parecchio È una persona che Si può dire che ha fatto del cinema Il suo lavoro E la sua vita E insomma Se lui mi dice qualcosa Su un film Al 99,9% Sono sicuro Che non mi dice Una cazzata Insomma Io dicevo Su questo gruppo Che il motivo Per cui Non volevo vedere Frozen Era proprio Per il fatto Che Una persona Questa persona qui Ma su quel gruppo Ho scritto Un mio amico Che si intende di cinema Chiuse virgolette Mi dice Che Bla 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 Peggior film Bla 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 Buchi di trama Bla 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 Non c'è trama Bla 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 Cattivo Che diventa Cioè Il personaggio diventa cattivo Di punti in bianco Per scopi di trama Bla 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 E Questa persona sul gruppo Si è Triggerata E mi ha risposto Con un Una persona Mi ha detto Ma non rompere il cazzo Guardati il film E poi Diccelo te Se fa cacare E io Per tutta risposta Gli ho detto Sai cosa Non solo Mi guarderò Frozen Ma mi guarderò Tutti i classici Della Disney E Ora che Ho visto Tutti i classici Disney Fino a Frozen La maratona non è finita Ma comunque ci rimane poco Dato che ho recuperato Tutto Fino a Frozen Posso finalmente Mandare a cacare Questa persona qui Posso Non mi ricordo nemmeno Chi era di preciso Ma posso finalmente Mandarlo a fare In Bip Posso mandarlo a fare In cecio Perché Ho visto Frozen È una merda Di film Ora voglio vedere Che cosa osa rispondermi Quella testina D'agnello Ok Piccolo rant Finito Di che cosa Parla Frozen Allora A parte che Frozen Si ispira La fiaba La regina delle nevi Di Hans Christian Anderson E Allora Onestamente Penso che Potrei riassumere Il film In 5 minuti Rispetto alle altre volte Dove c'è una cosa Complicata Da dire Potrei farvi Il riassunto Del film In 5 Al massimo 10 minuti Esacerare Però insomma Long story short Principessa E sorella Principessa Anche lei Bambine Una di loro Ha i poteri Del ghiaccio E Insomma Riesce a Fare cose fighe Col freddo La neve Il ghiaccio Può letteralmente Creare Montagne di ghiaccio Solo con un gesto Della mano Soltanto Che poi Una volta Mentre giocava Per sbaglio Colpisce la Sorellina Anna Quella che ha i poteri Del ghiaccio È Elsa Quella che ha Quella invece È la babbana La sorellina È Anna I genitori Premente Per salvare Salvano Anna Però Le fanno modificare I suoi ricordi Da questi troll Le fanno modificare I ricordi In modo che lei Non si ricordi Che è la sorella Ha dei poteri E In poche parole Anna Cioè scusami Elsa Viene lasciata Con questi poteri Dato che non li può perdere E in poche parole Deve tenere nascosti Per tutto il tempo I genitori muoiono Come ogni film Disney si rispetti Passano gli anni Elsa diventa Aspetta 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 Abbiamo già un buco di trama All'inizio Oh mio dio Era così palese Insomma Si vedono loro bambine Tre anni dopo Elsa è già Diciottenne Già Viene già Incoronata regina Insomma Elsa viene Incoronata regina Finalmente possono Aprire tutti il palazzo Mega festa fotonica Anna si innamora Del primo sfigato Che le passa davanti Principe fotonico Perché Giustamente Anche lei Non ha potuto uscire Per anni E Cioè Appena Ti si aprono le porte Ti scoperesti Pure un lampione Insomma Niente Lei Vuole già chiedere Le nozze Con il principe Hans Si chiama così Devo tenere il telefono Più Non è più Perpendicolare Al pavimento Perché Sennò Faccio Hip hop Nell'audio In questa maniera E Soltanto che Elsa si triggera E quando Elsa si incazza I suoi poteri Vengono rilasciati A quel punto Tutti quanti Scoprono Nell'head I poteri Lei scappa via E In poche parole Anna la va a cercare Fa la conoscenza Di Christoph Che è questo ragazzo Che Speramente Porta il ghiaccio E vive Nelle nevi Ha un'arena Di nome Sven 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 Madonna Quanti ricordi Collegati a Sven Più Deve tornare Su Minecraft E Sven Non deve morire È il miglior cane Ah no scusa È vero In questo film Sven è un'arena E insomma Watership Watership E insomma Jörgen Ok la smetto Un labrita smitta fitta E insomma Niente Incontra questo Christoph Che niente Fanno amicizia Lei si fa aiutare da lui A trovare Elsa Elsa E Anna Se ritrovano Elsa Si è creata un palazzo di ghiaccio Dopo aver cantato Epico Epico Il mio cuore quasi si ferma Epico Epico È stato stratosferico Voglio morire qui Con quella scena lì È stato epico Insomma Dove aver cantato Epico Elsa si è creata Il palazzo di ghiaccio Anna e Elsa Si rivedono Elsa dice Sì è vero Io ormai sono felice Qui ma te appartiene A Darendel Devi A Darendel è il nome del regno Devi tornare laggiù Succede che Elsa per sbaglio Ricolpisce con il ghiaccio La sua sorella Ma ha il cuore E No purtroppo non muore Purtroppo non muore Perché non viene infilzata Con una stalagmite Ma viene colpita Da un colpo magico Al cuore E quindi il cuore di Anna Inizia a congelarsi Lentamente Insomma Anna viene Rumori strani Che cazzo erano Questi rumori Va bene che ci sono pipistrelli Dove vi voglio Ma Era veramente un pipistrello Sta bestia di satana Va bene Insomma Anna viene riportata Da Christoph A Darendel Anna aveva affidato Il regno Al principe Conosciuto Il giorno prima In motorino Sotto casa Insomma Il principe Hans Proprio Si prende cura Di tutti quanti Dalle provviste a tutti Dalle coperte a tutti Insomma Letteralmente un personaggio Che è buono Nell'animo E vuole aiutare La gente Insomma E alla fine Cosa succede? Succede che Hans Va anche lui In cerca di Elsa Trova Elsa La cattura La imprigiona Dicendole Deve aiutarci A fermare l'inverno E tutto Ma Elsa Perché Elsa Ha congelato Un inverno In piena estate Quando è scappata via Però Elsa dice Io non posso Fermarlo Non so come fare Eccetera eccetera Insomma E Viene fuori Che Dopo una scena Completamente filler Viene fuori Aspetta Dopo una delle tante scene Completamente filler Devo abituarmi A tenere i telefoni In un modo specifico Viene fuori Che Per scongelare Il cuore di Anna Serve un atto Di estremo amore Insomma Quindi lei Viene riportata Da Rendell Dal principe Hans In modo che lui La possa salvare Soltanto che poi Di punto in bianco Dopo un'ora Dopo un'ora E dieci La Disney Si accorta Che nel film Non c'è un cattivo E quindi Cosa facciamo? Prendiamo Hans Che per tutto il tempo È stato buono E si vede Nel film Quanto veramente Gli importa degli altri E di punto in bianco Viene reso uno stronzo Di punto in bianco Lui Se ne esce con Ma io non ti amo Io voglio soltanto Prendermi il regno Buona fortuna Morire assiderata Ti chiudo qui dentro E a mai più rivederci E quindi niente Hans di punto in bianco Diventa una merda Perché Lo staff della Disney Dopo un'ora e dieci Ci accorta Che manca un cattivo E niente A parte questa scelta Molto fiacca Anna riesce a scappare Dal palazzo Riesce a rivedersi Con Christoph Ma prima che Christoph La possa Baciare Per salvarla Elsa Viene quasi uccisa Da Hans Hans Sta per tirarle La spada Addosso Per ucciderla Ma Anna Si mette nel mezzo E Pramente Muore Congelata In una posizione E Letteralmente Lei che è fatta Di ghiaccio Riesce A spezzare La spada Di Hans Una spada Che si sgretola Quando colpisce Il ghiaccio Porca puttana Che cazzo Di ghiaccio resistente O è il ghiaccio Che è ultra resistente O è la spada Che è fatta Di carta pesta Insomma Niente Anna muore Congelata Invece no Invece no Perché Elsa Disperata L'abbraccia Si dispiace Di tutto il macello Che ha combinato E Anna si scongela Ritornando in vita Perché l'estrema amore Di Elsa Presumo Come sorella L'ha salvata Dalla maledizione E quindi Nulla Nulla E Niente Tutti felici e contenti Il principe Hans Viene imprigionato E verrà arrestato Successivamente E messo in gatta Buia Per il resto Di suoi giorni Fine Vi ho riassunto La trama di Frozen E insomma Insomma Beh Insomma È molto bello Vedere come Hans cambia carattere Che è lì A implorare Elsa Di Ti prego Devi trovare un modo Per togliere L'inverno Per favore Siamo tutti in crisi Noi dobbiamo trovare un punto comune Mi dispiace tantissimo E poi cinque minuti dopo E Dobbiamo uccidere Elsa Wow Si vede il cambio di regia C'è stato un cambio di regia Allucinante Che poi Scusatemi un attimo Che poi nella scena In cui Hans Versa L'acqua Nel camino Per spengere il fuoco In modo che Anna Non possa riscaldarsi A me sembrava tipo Il brichino del caffè E vi giuro Io mi sarei incazzato Enormemente di più Se Hans Avesse versato Il caffè Invece dell'acqua Perché Voi sapete quanto Io sono Un amante Del caffè Voi sapete quanto Io senza caffè Non posso vivere E insomma Insomma Beh A parte che c'è stato Una cosa Tipo Che in realtà Penso sia Tipico Delle festività Nordiche Delle festività Di quei paesi Scandinavi Che Mi ha dato qualche Flashback Correndo di Midsommar E comunque Parentesi Midsommar È un grandissimo Film horror Ve lo Vi consiglio di rimediarlo Possibilmente La versione di Rector's Cut Perché è un film horror Fatto veramente bene Si può dire che è un filmone Con i controcoglioni Insomma Tanto tutto Alla luce del sole È uno dei pochi horror Tutto alla luce del sole Davvero Quanto cazzo mi dispiace Quanto cazzo mi dispiace Questo film Sia pieno di buchi di trama E di scene Completamente filler Perché alcune scene Come quella Dove Olaf Si mette a cantare È una scena Completamente filler La scena in cui Trolle Iniziano a cantare È una scena Completamente filler E comunque Ribadisco In questo film Cantano di continuo Cantano di continuo Dopo un pochettino Inizia a scassarti Il cazzo Dopo un pochettino Inizia a chiederti Se Sia un film Di canzoni E basta Condito da Tre frasi normali Ogni tanto Insomma Diciamo che Con Con canzoni filler E scene filler Il film invece Che un'ora e quaranta Poteva durare Possibilmente Persino Un'ora e venticinque Cioè Si poteva togliere Quindici minuti Di film Per quel che Mi riguarda E Nulla Ci sono cose strane Che Potrebbero essere I buchi di trama E guardate Vi dico Quelli minori Vi dico I buchi di trama Minori Che Quando alla fine Viene riscongelato Tutto E ritorna All'estate Che Hans Non è morto Ma è lì Sulla barca E fate conto Che in tutto questo C'è Il popolo Di Arendelle Che sta guardando Dal castello Ma in tutto questo Gli unici Che sanno Che Hans Era una merda Gli unici Che sanno Che Hans È diventato Cattivo Di punto in bianco Sono Anna Elsa Kristoff E vabbè Contiamo anche Olaf Solo i protagonisti Sanno Che gli è diventato Cattivo Eppure Quando Da lontano Vedono Anna Senza Un minimo di contesto Dal loro punto di vista Che tira il pugno In faccia A Tira il pugno In faccia A Dans E lo butta in acqua Tutti quanti Dal castello Fanno l'applauso C'è Come se sapessero Che è diventato Cattivo E se lo meritasse Cioè Scusami Quando è stato rivelato Al popolo Che Hans Era cattivo Ok A parte quello E A parte che Elsa Può solo creare cose Di ghiaccio Neve eccetera E verso la fine Crea letteralmente Dei pattini Crea dei pattini Di ghiaccio Normali Per la sorella Anna Cioè A questo punto Elsa Può anche creare Oggetti Non di ghiaccio Ne di neve Da nulla Cioè Se io le chiedo Fammi un portafoglio In pelle di Dino Me lo può fare Se io le chiedo Un borsello Di pelle di Dino Me lo può fare Cioè ma E questi sono i buchi Di trama Minori Ci sono alcune cose Che Mi hanno turbato All'interno del film Perché non riuscivo a capire Che ragionamenti Ci fossero dietro Insomma No io ormai Ho inquadrato Che questo film Era il contentino Per i bambini Era quel genere Di animazione Del porta bambini In sala Perché ci sono Molte cose Che vengono Infine lasciate A se stesse E che Vengono coperte Dalla scena Di Siamo tutti felici Siamo tutti eroi Eccetera Perché nella mente Di un bambino Un bambino Non ci sta a pensare Che cinque minuti Prima La situazione Era completamente Diversa Un bambino Non ci sta a pensare È un film Nel vero senso Della parola Per bambini Ma per bambini Che Insomma Non è nemmeno A dire che Non sono sicuro Nemmeno di dire Che ci sia Una morale In questo film Cioè la morale Del film È il solito L'amore vince Però Abbiamo visto 152 film Prima di questo E abbiamo visto Dei film Che erano Dei veri Capolavori Cioè In pochi film Della Disney Ho visto scene Che sono filler E che potevano essere Completamente rimosse E non sarebbe Cambiato nulla Però Cazzo Cioè Arrivare a dire Che Potresti togliere 15 minuti Interi di film E non si perderebbe Nulla di trama Cioè Io penso A film come Il libro Della giungla Penso a film Come il libro Della giungla Dove bene o male Non c'erano Scene filler Dove bene o male Nel suo piccolo Ogni scena Serviva a qualcosa Mi ricordo La carica Dei 101 Dove Persino le scene Di comicità Che alla fin fine Non portano nulla A livello di trama Hanno un loro posto In tutto L'insieme Del film Anche nella carica Dei 101 In Oliver & Company Cioè Oliver & Company È un discorso Più particolare Scusate Mi intendevo Un altro film Ma Ci sono Comunque film Dove anche se Ci sono scene Comiche Ma che alla fine Potrebbero risultare Filler Sono scene Che comunque In tutto l'arco Del film Il loro posto Ce lo trovano E Non sembrano Campate in aria Per allungare Il tempo Di proiezione Siamo già A 21 minuti E Nulla Nulla Quanto mi dispiace Cioè Ragazzi Mi sono veramente Sentito Come se Avessi buttato via 1 ora e 40 Della mia vita E moltiplicate Questa ora e 40 Per 2 Quindi 60 100 200 minuti Diviso 60 200 minuti 60 120 180 3 ore e 20 Ho praticamente buttato via No Oddio Sì 3 ore e 20 Oh mio dio Sì ragazzi Ho buttato via 3 ore e 20 Della mia vita A guardare Frozen Sapete cosa Ce lo siamo Tolto di mezzo Lato positivo È che Ce lo siamo Tolto di mezzo E mi dispiace Un sacco Perché È letteralmente Nemmeno tempo Sprecato È proprio Tempo Perso Perché Ricordatevi Gente Per quanto Possa sembrare Una minchiata C'è differenza Fra tempo Sprecato E tempo Perso Perché Uno È tempo Che hai Passato A fare Qualcosa Ma che Alla fine Si è rivelato Inutile E quello Vabbè Però Quell'altro Per quel tempo Passato lì A non fare Nulla Direttamente A non fare Nulla Cioè Letteralmente Sono stato Seduto Sul divano Per tre ore E venti A guardare Un film Che non Mi ha Trasmesso Niente Un film Che Non mi Ha donato Emozioni Non mi Sono sentito Attaccato Ai personaggi E Non mi Sono sentito Coinvolto Nell'azione Per nulla Cioè E poi Non è nemmeno A dire Che Magari Ero io Che mi Girava Il cazzo Perché C'erano Film Della Disney Dove io Sono partito Con propositi Bassi Sono partito Con aspettative Basse E poi Mi sono ritrovato A tifare Per i personaggi Nel vero senso Della parola C'erano film Mi sono trovato Film Durante l'ascensione Dove nel vero senso Della parola Ero lì Che quasi Incitavo I personaggi A fare Vara non fare Delle cose Come se Loro Mi potessero Sentire E qui Con Frozen Nulla Sono stato Per tre ore E venti A farmi A farmi sudare Le chiappe Sul divano Cioè ragazzi Persino il mio pelusce Di Asriel Si è messo a dormire Perché non ce la faceva più Il mio cazzo Di pelusce Di Asriel Si è messo a dormire Guardando Frozen Dio santo E nulla Che devo dire Sull'aspetto grafico Cosa devo dire Sull'aspetto grafico Perché CGI CGI Dove In molti punti C'è Due o tre Scazzi Di animatori Un po' Sottopagati E si vede Palesissimo Ma Non lo so Avevo detto Nella recensione Di Rapunzel Che durante Un'inquadratura Due Lei mi era Sembrata Un modello Precedente Di Elsa E Devo dire In realtà A vedere Frozen Questa cosa Non l'ho rivista Però Sono sicuro Se mi mettessi lì Ad analizzare Due o tre Somiglianze Ce le troverei Quindi Boh C'è un'altra cosa Di cui mi dispiace Un sacco Di Frozen Perché È uno sticker Di una Salsiccia Quella Va bene Mi dispiace Di Frozen Che abbia Una colonna Sonora Parliamo a livello Musicale Non di canzoni Solo musica Di un livello Di un Oddio Come l'ho detto Siamo a Oddio Mi sto perdendo Mi sto perdendo Mi sto perdendo Ha un aspetto Musicale Ha un aspetto Musicale Il film Che È meraviglioso Ha un comparto Sonoro Che è meraviglioso A livello di musica Ma Musica Da concerto Roba incredibile Che io Mi ascolterei Musica Che è presa Da sola Sarebbe in grado Di donarmi emozioni Eccetera Peccato Che sia affiancata A un film Così Peccato Che sia Attaccata A un film Di questo genere Dove gli animatori Hanno preferito puntare Sul Portiamo bambini In sala L'importante È che bambino Si diverta Per quanto riguarda Le canzoni Le canzoni Italiano Sono quello che sono Se devo trovare Un confronto Tra l'italiano E inglese Posso dirvi Che sia per voci Che per canzoni L'inglese È mille volte meglio Cioè Se dovete Vedervi Frozen Se proprio Siete costretti A vedere Frozen Guardatevelo in inglese Perché almeno Soffrite un pochettino Di meno Non che il doppiaggio Italiano Sia stato fatto male Anzi Addirittura Ho letto su wikipedia Che il doppiaggio Italiano Vinse un premio Come miglior doppiaggio Estero Porcone Non so che cosa Ti passasse per la festa Perché inglese È molto meglio Dell'italiano In questo film Do you wanna Build a snowman E non lo so Non lo so Non lo so Ho pure finito Il listino Ho pure finito Il listino Non so più Di che cosa parlare Io sarò sincero Ragazzi Io Ho guardato Frozen E più di una volta Mi sono chiesto Come cazzo Ha fatto questo film A vincere un Oscar Come cazzo Ha fatto questo film A vincere In realtà due Oscar Però sapete Un Oscar è stato Per miglior canzone Che era Let it go E Quello bene o male Posso capirlo L'Oscar per miglior canzone Lo posso capire Vedo Cosa è strana Non vorrei che Ok no È soltanto un'ombra Io posso capire L'Oscar Per miglior canzone Però Oscar Come miglior film D'animazione Del 2013 Che cosa è uscito Nel 2013 Sicuramente un sacco Di film belli Perché la vidi la lista Sicuramente nel 2013 Sono usciti un sacco Di film Ultrameritevoli Però nulla Hanno deciso Di far vincere Frozen Io non lo so Io non lo so C'è un film Della Ghibli Che è uscito Nel 2013 Così è intuito Arietti Mi sa che è troppo Moderno Forse Pogno No Si alza Il vento Era uscito Si alza Il vento Porca puttana Ragazzi Se non mi ricordo Male le date Lo stesso anno Era uscito Si alza Il vento E si alza Il vento Era un filmone Porca puttana Un film Autobiografico Sulla vita Di Hayao Miyazaki Che l'ha fuso Alla vita Di Horikoshi Jiro Cioè Un film come Un film come Si alza Il vento Meritava Di vincere L'Oscar Invece no Diamolo a Frozen Perché Let it go Let it go Insomma Poi Elsa non ha fatto Che far partire I video Della gente in costume Fra le storie di amore Fra Spiderman Che mette incinta Elsa E far partire Le catene di video Cursed Su Youtube Ed è per colpa Di quei video Che adesso abbiamo Youtube Kids E Youtube Con I tuoi video Sono per minori E Io non lo so Sarò sincero Anche mia madre Mi si è messa Accanto Per un paio Di minuti A vedere Un attimino Che cosa Fosse Frozen E anche lei Mi ha detto Che Non le ha Trasmesso Niente Mi ha detto Anche lei Che non le ha Trasmesso Nulla Cioè Ma poi Anche solo il film Mi facesse Incazzare Cioè Vedessi qualcosa Nel film Che mi fa Incazzare Sarebbe comunque Una cosa Onesta Perché Se io guardo Un film E per una determinata Cosa Mi incazzo Vuol dire che Tra virgolette Sono preso Dal film Per un pochino Sto seguendo Ma In questo caso Io sono rimasto Proprio lì A Ok Questo Lui è diventato Cattivo Di punti in bianco Perché Scusami Cioè Io ve l'ho detto Io ho passato Tre ore e venti A scaldare Il divano Non lo so Non lo so Ero lì Che mi stavo Chiedendo Per favore Quando arriva Baymax Quando è che Arriva Baymax Voglio arrivare Alla prossima serata E vedere Big Hero 6 Rivedere Perché te l'avevo già visto Siamo sicuri Che la prossima serata Ci sia Big Hero 6 Fammi rivedere Ok Sì Aspettate Già che sono qui Segno Frozen Come Finalmente Visto Gli ho anche fatto Una X Sopra Tutti gli altri film Gli ho fatto La V Di visto Ma a questo qui Gli ho proprio fatto Una X Sopra E vabbè Il prossimo È Big Hero 6 Il prossimo È Big Hero 6 E Io ho troppo bisogno Di rivedere Tadashi Cioè Che cazzo Almeno Big Hero 6 Ora va bene Quando rivedrò Big Hero 6 Vi dirò Io che cosa ne penso Perché dirò anche Un po' di cose Un paio di opinioni Che vengono Dalla prima volta Che lo vivi Diciamo che Ogni pensiero A Big Hero 6 Lo lasciamo Alla sera In cui lo vediamo Però Sapete cosa Da una parte Sono stracontento Di aver visto Frozen Perché così Finalmente Me lo sono tolto di mezzo E posso mandare A quel paese Quella persona lì Dall'altra Mi dispiace Che fino a che Non uscirà Il film Del 2021 Concluderò La Maratona Disney Con Frozen 2 E io anche lì Mi chiedo Cioè Dato che so Che hanno fatto Un seguito Dato che so Che hanno fatto Un seguito Io mi chiedo Con quale pretesto Con quale pretesto Si mettono A fare un seguito A parte il fatto Per portare Bambini in sala A parte portare Bambini in sala Ma Che storia Ti inventi Che storia Ti inventi Per portare Bambini in sala A vedere Il seguito Di Frozen Che già Ha 500 Buchi di trama E nulla Nulla Mi hanno pure Aperto la porta Per dirmi Di far silenzio E io Stavo facendo silenzio Stavo parlando piano Per tutto il tempo Stavo parlando piano Per tutta la sera E mi hanno aperto La porta Per dirmi Di abbassare la voce Ma vi sta venendo Il super udito Vi sta venendo Il super udito Brutte teste Di cazzo Pezzi di merda Tanto ora sono pure Le 2 e 25 Potrete dire Le 2 e 25 E la risveglio Te lo sai Che fra 5 ore Ti devi alzare Te lo sai Dovesti andare A pigliartelo Nel culo E nulla Nulla Mangiamo un biscotto Per riprenderci E niente Niente E' finita ragazzi Ci vediamo La prossima volta Con Big Hero 6 Ah comunque ragazzi Post scriptum Sulla recensione Cosa che mi sono scordato Di dire In realtà La Disney Già dagli anni 40 Dal 1940 Aveva in programmazione Di fare Frozen Soltanto che Il nostro caro Anderson Non voleva Vendere gli diritti E quindi Sicuramente Avranno fatto Come Conte e Zuka Hanno aspettato Che schiattasse Per poi poterlo fare Però Visto la schifezza Che è venuta fuori Posso capire Perché non voleva Cedergli i diritti E comunque Ho letto che Il film Non c'entra Quasi nulla Con il libro